Nuovo record di contagi in Irpinia in questa quarta ondata Covid su 1.104 tamponi. Nelle ultime ore sono positive 146 persone, 31 nel capoluogo, 10 a Montoro, 8 a Grotta Minarda e 7 a Marzano di Nola. Questi comuni con il maggior numero di infetti, ma nel bollettino Aslo quasi nessun municipio ormai immune dal contagio. Si contano altre due vittime, un 85enne di Cassano al frangipane di Ariano e un anziano di Grotta Minarda deceduto all'ospedale di Maddaloni. Sempre più sindaci sono costretti a chiusure o provvedimenti restrittivi. In queste ore è soprattutto il caso di Volturara, dove allarma la situazione della materna. Il sindaco Manganaro ha disposto un drive-in ad hoc per decine di bambini e i loro genitori. I piccoli sono risultati positivi al test antigenico. Situazione analoga a Melito Erpino. Abbiamo avuto notizia di alcuni genitori che hanno dei sintomi fortunatamente non gravi, per cui mi sono interfacciato poco fa con il direttore del SEP, il dottore Morrone, il quale mi ha assicurato che nella giornata di domani l'elenco dei nominativi dei bambini e dei genitori che abbiamo trasmesso ieri mattina saranno sottoposti al tampone molecolare presso il drive-in di Frigento. A Tufo, invece, il Covid è sbarcato negli uffici comunali. Il sindaco Donnarumma, venuto a conoscenza che il responsabile dell'ufficio Ragioneria, è risultato positivo, ha preferito scegliere la linea della prudenza e ha disposto la chiusura degli uffici comunali per domani e lunedì 27. Nelle ultime ore somministrate 4.463 dosi di vaccino. Intanto si è concluso il trasferimento dei pazienti positivi al virus dalla città ospedaliera al Covid Hospital, che così riapre con 28 posti di degenza ordinaria e subintensiva e 6 posti letto di terapia intensiva.